Tutto solo che non... Comissario, finalmente agli altri. Come è successo? Circa metterò. Ma di un avvocato! Chiamatemi un avvocato! Non so, non so! C'è il mio giocare ora... Non so, non so, non so. Così, ti fai paura, ma a questo minaccio è passato. Fuori da questa casa!!! Fui da questa casa!!! Grazie a tutti.